Grazie Allora il prossimo pezzo è è cominciato come un esercizio per la mia mano sinistra la mano per diciamo cercare di renderla un po' più forte più precisa quindi è praticamente un esercizio dove io sono solo con la mia mano sinistra proprio per renderla un po' più forte perché si può fare questo a quanti chitarristi ci sono qua stasera? Chi non suona Mi vergogno di alzare la mano un po' Ho fatto sentire diversi anni fa questo pezzo a uno dei miei studenti che mi ha portato un giorno dopo averlo sentito mi ha portato questo che è una una specie di maracas e mi ha detto ma perché non mentre fai questo pezzo con la mano sinistra perché non usi questo? Mi ha detto ma perché no? Allora questo pezzo si intitola perché no? no perché no? no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.